È molto bello vedere che una certa partecipazione mi interessa dopo le fasi che abbiamo avuto di ascolto, analisi, racconto degli obiettivi e delle metodologie, quando finalmente siamo contenti di poter presentare dei contenuti che la partecipazione sia continui ad essere così numerosa. All'interno di questo io ripropongo brevemente i passaggi che ci hanno portato a proporre e elaborare tre scenari, a raccontare degli scenari che ricordo sono gli ingredienti del piano, non sono le alternative, sono gli ingredienti che dosate in maniera differente rispettando le invarianti del documento di cui si parlava prima, i primi risultati del rapporto ambientale diventano il piano struttura che alla fine l'architetto Giuliani vi racconterà come bozza. Quindi andando molto brevemente, il punto in cui siamo oggi è il passaggio dall'elaborazione dei tre scenari che adesso vi racconto alla sintesi del dosaggio di questi tre assetti diversi e ricette diverse per le diverse aree di Pordenone. Andiamo pure alla prossima perché secondo me già entra nel merito di usare al meglio il nostro tempo la sua migliore. Allora, siamo partiti da l'interpretazione di uno scenario di rigenerazione urbana che ha come parola chiave non solo rigenerazione ma il consumo ridotto, annullato di aree, Greenfield, all'interno dello sviluppo futuro di Pordenone. Quindi questo scenario radicalizza la direzione di rigenerazione urbana, si interroga su come la faccio realmente, come la posso fare realmente e afferma di non voler consumare il suolo. Come vedete nella pianta, prego, questo, forse non è indietro, scusate, abbiamo alcune regole del gioco, per ogni scenario, che applichiamo a tutto il territorio. Ripeto, sono gli ingredienti, il piano, struttura finale non avrà uno scenario applicato a tutto il territorio ma avrà diverse porzioni che seguono le linee guida dei diversi scenari. Quindi nel caso della rigenerazione urbana è chiaro che noi concentriamo tutte le energie nel ristrutturare la città esistente, nel tenere conto delle invarianti che hanno un'attenzione particolare al vincolo elettrogeologico, al miglioramento sismico degli edifici, quindi una sorta di grande manutenzione urbana unita all'innovazione sotto il profilo del miglioramento degli edifici. Grazie, posso andare alla prossima, grazie alla premialità che questo recupero della città esistente tramite interventi di miglioramento energetico e in generale di rigenerazione urbana, quindi anche di aumento volumetrico e anche, perché no, di sostituzione urbana, andiamo a creare una maggior densificazione della città compatta e a liberare delle risorse per la manutenzione dello spazio pubblico e comunque lo sviluppo della città, perché non è detto che consumare suolo vuole dire sviluppo, non consumarne, non vuole dire sviluppo. Quindi, possiamo andare alla prossima, abbiamo individuato all'interno dell'area del comune alcuni ambiti, anche grazie a, appunto è stato detto che si stanno elaborando diversi piani, c'è una grande attenzione all'energia, al consumo energetico, all'età degli edifici, quindi abbiamo individuato alcune aree dove è favorevole intervenire nell'ambito della rigenerazione, è sostenibile anche probabilmente economicamente e come densificazione della città e quindi in questo caso noi concentriamo tutte le energie su un quartiere tipo, come ho preso e vi racconteremo, secondo i tre scenari, schematizzando come le aree PAC di fatto non vengono, rimangono congelate e si concentrano nell'energia e nella crescita volumetrica e nella strutturazione degli edifici. E quindi vedete schematizzato un isolato tipo e le trasformazioni che possono avvenire. Andiamo avanti perché poi di ogni scenario sono evidenziati, come vedete, i punti di forza, i punti di debolezza, ma soprattutto le opportunità. Ripeto, i scenari sono degli strumenti per valutare le criticità e le opportunità che ha il territorio di Pordenone di svilupparsi. In questo caso lo sviluppo è legato al non consumo di suolo, ma sempre sviluppo. Quando siamo passati allo scenario 2, che ha come parola chiave, la prima era concentriamo l'energia sulla rigenerazione urbana, questa è concentriamo l'energia su un'espansione controllata nelle condizioni attuali. Vediamo come in questo caso abbiamo previsto di poter occupare alcune delle aree che avete visto prima, ma se e solo se si verificano delle condizioni. Usare la capacità edificatoria che hanno queste aree per dare qualità sia alla città esistente che ai nuovi sviluppi che avverranno in queste aree. Quindi la maniera più concreta per farlo è attraverso una concorsualità. Se vengono concessi annualmente un topo di diritti volumetrici, in questo caso questi diritti volumetrici vengono vinti dai progetti che hanno maggior qualità. Qualità chiaramente che è relativa ai progetti stessi, ma sapete benissimo che se un progetto consuma meno, produce verde, produce ossigeno, diventa anche un bene collettivo della città. Quindi abbiamo stilato delle tabelle qualitative degli edifici per dire come questa concorsualità annua può rilasciare e può costruire di fatto delle aree come quelle PAC, non solamente sul criterio dell'edificio stesso, ma su una valutazione delle ricadute edilizie ambientali e sociali dell'intervento stesso, per permettere un'occupazione e una nuova costruzione. Chiaramente c'è un ulteriore elemento che abbiamo posto, cioè tutte le aree in attesa di essere, come dire, di vincere un concorso perché hanno la tempistica e la qualità necessaria, nel frattempo sono soggette da parte dei proprietari a un intervento comunque di risistemazione ambientale, non abbiamo chiamato proprio verdisman, cioè si vengono piantumate, producono ambiente, producono qualità per la città e quando il progetto proposto ogni volta prossima accoglierà e vincerà questa concorstualità annua, potranno accogliere anche la costruzione, ma intanto in tutto il percorso produrranno già un beneficio collettivo. Quindi vedete che in questo caso alcune aree escono dal perimetro esistente e accolgono le previsioni della variante 77 e però all'interno di questo piano di regole dove capite che si usano le energie per migliorare gli aspetti pubblici e nello stesso tempo quantitativi dell'intervento stesso della città. Un esempio sempre schematizzato sul nostro isolato tipo è questo, dove il preverdisman va a piantumare, sistemare le cosiddette aree di attesa, che oggi magari sono abbandonate o poco utilizzate e successivamente tramite la concorstualità si possono realizzare questi interventi che hanno comunque questa componente ambientale e sociale. Dico sociale perché ci sono delle componenti anche di social housing, di realizzazione che oggi è inutile ricapitolare ma che derivano proprio dalle vostre aspettative emerse dal testo unico e lavorato in passato. E chiaramente così si liberano anche delle risorse per la manutenzione della città pubblica per la messa in rete di questi interventi. Sempre l'analisi dei punti di forza e punti di debolezza che vi invito a visitare sui materiali a disposizione. E infine il terzo scenario. Il terzo scenario è quello che invece ha come parole chiave rigenerazione ed espansione. Abbiamo fatto il tentativo di creare una cinghia di trasmissione tra i nuovi sviluppi nell'area del 67 e la rigenerazione. Se ne andiamo alla prossima. In controparole noi prevediamo sempre all'interno delle regole che tengono conto delle esigenze di sviluppo odierne dell'edificazione dell'area parca del 77 se e solo se in questo caso sono legate e connesse a diventamenti di rigenerazione urbana della città compatta. Questo è un meccanismo sicuramente ambizioso ma che in alcuni casi può diventare utile. Chiaramente escludiamo le zone di rischio idrogeologico da questo tipo di sviluppo e avranno un'altra componente però in generale quello che diciamo è dal momento che io faccio una rigenerazione urbana nel tessuto consolidato e quindi miglioro la città esistente. Oltre a generare risorse per la stessa sistemazione della città pubblica, creo un diritto volumetrico che potenzialmente posso usare nelle aree dove è già più visto lo sviluppo dalla variante del 77. E c'è una premialità all'interno della componente qualitativa. Capite bene che questa ciglia di trasmissione oggi con la situazione di risorse e sostenibilità economica degli interventi è probabilmente una strategia molto ambiziosa ma molto efficace per attivare uno sviluppo sistematico della città. Quindi in questo caso vedete che è un po' più complessa la mappa delle aree perché sia si occupano delle aree previste dalla 77 e nello stesso tempo si riqualificano dei tessuti interni dell'edificato sempre seguendo le linee guida che dicevamo prima delle fabbriche edifici e tutte le componenti ambientali ed energetiche dei piani che si stanno sviluppando e dei contributi tecnici che stanno un po' pensando all'accordo del nome del futuro. Quindi questo sempre nel nostro isolato tipo questo schema si trasforma in una rigenerazione che sia interviene sull'esistente e nello stesso tempo ha una qualità dei nuovi interventi che generano le risorse per sistemare e mettere in rete tutte le risorse di spazio pubblico di connessione che sono un altro oggetto di intervento importante dei piani. Quindi i punti di forza e di debolezza sempre fanno parte di questa mappa nella quale io vi ho illustrato tre strategie, tre scenari che sono gli ingredienti di questa sintesi che oggi stiamo facendo e che più tardi presenterà l'architetto Giuliani. Però quali sono i criteri di questa sintesi? Abbiamo già raccontato in un incontro precedente il perché questo è un metodo efficace per progettare la città oggi, perché permette di aggiustare il tiro e permette delle componenti di flessibilità che sono necessarie sia per testare le soluzioni che per metterle a punto. Però ci sono alcune regole che ci hanno aiutato a dosare questi scenari. Una regola è quella delle invarianti del documento, delle direttive che sono arrivate come estrema conseguenza del lavoro fatto da voi nel testo unico. L'altra componente sicuramente è quella del sistema ambientale, che ha degli ambiti di salvaguardia restrittivi che riguardano i sistemi geologici e ha degli altri ambiti che invece diventano in qualche maniera, direi, il motore di sviluppo. Perché oggi quando si crea un ambiente migliore diventa per il territorio un fattore di attrattività, un fattore di sviluppo e un fattore anche di investimento in alcuni casi. E per cui tra queste regole il rapporto ambientale preliminare, che adesso è rappresentato dalla Germana Godi, era Giraldo, 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 diventa un po' la regola con la quale siamo andati a dosare questi scenari. È chiaro che gli obiettivi sono gli obiettivi che sono emersi dall'ascolto avuto in questi mesi, ma soprattutto da una verifica delle potenzialità del territorio. E se noi caliamo sul territorio polvenonese queste strategie non abbiamo il nostro isolato tipo che radrupa tutti e fra gli scenari contemporaneamente, però abbiamo delle aree che si adattano a questo tipo di sviluppo. E quindi solamente sovrapponendo le potenzialità degli scenari, le restrizioni ambientali e le componenti di sviluppo ambientale e infine il lavoro che viene continuamente fatto di sovrapposizione di informazioni che arrivano dagli altri piani, noi oggi siamo in grado di presentarvi la bozza di quello che stiamo facendo, cosa che più tardi farà l'architetto Giuliano.